Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Voglio parlarvi di una donna d'affari eccezionale e un imprenditore di fama, che ci ha tragicamente lasciato all'età di 51 anni, a seguito di un incidente. La notizia che mi ha presto a condividere riguarda un evento luttuoso che ha strappato alla vita una donna considerata un pilastro nel mondo degli affari e un punto di riferimento nelle relazioni politiche tra gli Stati Uniti e la Cina. Con grande tristezza, mi trovo qui a tributare il mio personale omaggio ad Angela Chao, donna di origine cinese che, fino all'età di 51 anni, ha giocato un ruolo fondamentale nel promuovere e facilitare i rapporti tra Cina e Stati Uniti, distinguendosi anche come imprenditrice di grande successo. La sua scomparsa è il risultato di un tragico incidente che si è verificato in Texas, incidente che l'ha portata via in un istante. In questo momento così carico di dolore, desidero esprimere le mie più sentite condoglianze e unirsi al cordoglio di tutti coloro che la conoscevano, ricordando con profondo affetto Angela Chao. Angela lascia una famiglia, un marito e dei figli, oltre a un'eredità di dedizione e impegno nelle relazioni tra la Cina e l'America.